La finanza etica è uno strumento dell'economia solidale. La finanza etica è trasparente in tutto il suo processo, dalla raccolta all'impiego del denaro. La finanza etica è quella finanza che sostiene forme di economie altre, nuovi paradigmi economico-sociali che hanno la forza e la capacità di porre l'espansione progressiva della libertà delle persone più fragili, il capitale sociale, la sostenibilità ambientale come un vincolo esterno alla logica di massimizzazione del profitto. E dunque la finanza etica è quella finanza che sostiene quelle economie che guardano i mercati come dei beni relazionali e non come all'equilibrio di egoismi. La fondazione sta sperimentando approcci olistici che guardano insieme, che mettono insieme la responsabilità ambientale, la cura e la valorizzazione dell'ambiente con la valorizzazione della cultura e dei beni culturali, così come la cura delle relazioni sociali e appunto l'espansione progressiva delle capacità delle persone, specie delle persone più fragili. La fondazione sviluppa attraverso il proprio patrimonio, attraverso leve che vengono dalla finanza etica, dei progetti produttivi nel campo della green economy. Per esempio ha creato un parco diffuso di energie rinnovabili, ricco di prototipi ma ha reso economicamente efficiente da tecnologie tradizionali. Oggi sta facendo un importante investimento sul risparmio energetico e poi ridestina gli utili rendimenti che vengono da questi investimenti di tipo produttivo interamente a finanziare cultura, a finanziare i beni comuni, a finanziare l'ambiente, a finanziare progetti educativi, a finanziare modelli di welfare di comunità che sono strutturalmente intrecciati con forme di economia civile produttiva. In questo momento abbiamo creato insieme al Consorzio delle Banche Etiche Europee SFEA una ESCO, una SPA che si occupa di risparmio energetico insieme alle cooperative sociali che favoriscono l'inserimento lavorativo di soggetti deboli, trasformiamo gli impianti e in particolare lo faremo su importanti aree archeologiche italiane e passando da impianti energivori che consumano molta energia a impianti a grosso risparmio energetico. La condivisione del risparmio permette alla società di rientrare dagli investimenti fatti e a finanziare i servizi che produce, che offre e poi le istituzioni pubbliche, private e la nostra SPA ridestinano loro i maggiori risparmi, noi gli utili, a finanziare la cultura.